If you like Moodle video you will love Moodle Life Link in the description below Lo fate intanto così Perché almeno possiamo andare un minimo ad esplorare Le torce le mettiamo di continuo Bestio ma sei un cecchì Ma sei un cecchì Vabbè di sto Basta Luca pensare a certe parole Ferro, guarda quanto ferro Quanto è che ci vuole di ferro per fare Una chest plate complessa tutto full a ferro Qui ti dico ne abbiamo parecchio C'è una chest plate Tocca mettere ancora torcettine Una Perché qui la cosa è dura Secca Ma no Ho trovato la miniera Sutta Perfetto Ah Voglio ma enorme Mamma 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 Oh mamma 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 Assurda È giga Giga Il ferro Loro mi serve Sa che mi sa che non mi serve un ca Guarda l'ho preso solamente per fare il Il coso Però non credo mi serva nulla La legge dei lapiscazzoli Più ne prendi più scazzi Li prendo perché potranno servirci Però in realtà non è una cosa che dici Oh mio dio Abbiamo bisogno di lapiscazzoli Mi sa che inizialmente il ferro è il nostro Cristiano Ok Vado giù di qua Butto una qui nel mezzo E poi li metto sempre a destra Bro mettere sempre le luci a destra Ha un botto di senso Te lo dico io Che livello siamo? Siamo al livello Meno nove I diamanti Oh dio mio Sì I diamanti a chi livello si trovano? Meno cinquanta Orco due Meno cinquanta due Ma che lei ha sotto? Che fai per cui il coglione? Ah merda ti infamo Pam Così per me sto buonassero Allora qua non ci abbiamo nulla Qua c'è la red cock La red cock è sinonimo di Cioè da anni la red cock alimenta lo sfruttamento di maiali nel nether Ne vogliamo parlare di questa cosa? Oppure no? Ah siccome non è attualità non ne parliamo Va bene ragazzi non ne parliamo Va bene lasciamola lì allora Lasciamola lì Nessuno ne parla Nessuno ne parla mai Intanto milioni di maiali nel nether vengono Uuuuh mi hai missato Coglione Uno v uno bambi Ah Basta Regà volete vedere qualcosa di secco? Ma Ma brudere è un diamante? Ma A livello zero? Perché a livello zero ho trovato un diamante? Questo muso è proprio assurdo Incredibile Anni e anni di gameplay di alto livello Hanno portato codesto muso a questa risoluzione del suo problema Lascio giù Lascio questo dai Anzi no faccio un'altra cosa Però ti faccio il numero E' un buon fuoriclasse veramente Mi chiamavano il maradona di minecraft Come tira lui Non tira nessuno Prendo un po' di pietra Faccio la fornace Mi faccio full ferro Faccio full attrezzi in ferro Così siamo A un buon punto Qui sento grande odore io Sento odore eh Sento odore mio Mio animo da cacciatore di diamanti Disse che qui dentro Odore di casi amanti Potremmo comunque ritornare di sopra Che mi sa che non dico che hanno fatto Però Mezzo che siamo Ha ipoteticamente un buon punto Ok Siamo arrivati alla fine Prendo questo ferrito De spare sitos Però se qualcuno mi pull up Dall'alto Gli faccio un culo grande Come una casa Te lo dico No vabbè assurdo Sono un seed su 15 Ha la possibilità di darmi Un buco qui sotto Quello che ho in mente È di fare dei grandissimi campi Broder ma qua si può andare Aspetta Oh Oh Guascone Porco Eh brother Siamo Mezzo in Chi cazzo torna a casa Cioè Oddio la casa Chi cazzo ha la casa Eh vabbè ci stanno già Pull up Ragazzi Eh no 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 Qui è È Garno Cioè potrebbe essere Porco d'undo Eh no Eh È enorme E ritorniamo dove abbiamo messo il ferro Qui sappiamo che c'è una gran grotta Comunque Siamo venuti da lì No da qui No da qua Sì Bam Olè Noi possiamo farci full Perfetto Allora faccio Uno Due Tre Sicuro facciamo Una Due Adesso andiamo nella caverna enorme Andiamo lì Siamo a meno due Quindi se scendiamo Dobbiamo trovare un pochettino di diamanti Però Poi quando faccio così Ok Per sicure No brother È veramente enorme Tu mi stai pull up Pando Coglione Coglione Brother Quando uno è too much potente Veramente too much Onestamente Non ci serve Nemmeno sapere Da dove siamo venuti Perché Non abbiamo passaporto E ci accontentiamo Di qualsiasi Avvicinati Coglione Attaccami Assurdo Tipo un lappo Cane Bastardo Brother Mi stanno A fa male Però sti stronzi Complicato Complicato Fortuna che sono un professional player Ecco C'è da dir quello Andiamo verso la luce Porco Sono morto Sono morto Ok Ok Ah Ah Puttana Guarda Però vivo Easy Porco due Quanta merda C'è però No brother C'è veramente Un fottio Di gente Mamma mia Oh 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 Good 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 Perfetto Peccato che non troviamo tipo le venature No Com'è che si chiamano Comunque più diamantini insieme Un peccato Un peccato Un peccato Però va bene Sai cosa ti dico In realtà ho un pochettino Mi accontento Cioè nel senso Abbiamo appena iniziato E già troviamo due diamantini Sempre meglio che nascere Non so Boh Arreggio Calabria Qui che c'è Di bello Ok Ti devo dire Buono Buono E se mi dai un diamante Te lo dico Se mi dai un diamante Ti fa un seghino A posto brother Dov'è il tasso Detona la basilicata Broder voi vedete i diamanti Perché io Perché io regà Non so voi Ma io ho sentito Una scoreggina Di un diamante Voi dite I diamanti Non scoreggiano Non scoreggiano Brother Rinasciano un odore assurdo Capisci Le L'hai capito Lo capisci De l'odore che rilascia Ti sembro No Bambino di me Non faccio le scommesse Ti ho detto Il diamantino Fa la puzza Il diamantino Fa la puzza Eccolo Perfetto Qui illuminiamola Tutta per bene Secondo me Ha senso Sta roba Cioè non è una cosa Malvagia Illuminare Dove c'è luce C'è civiltà E dove c'è civiltà C'è il C'è Luca C'è Luca 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 io Belli i due diamantini Così Siamo a cinque Cinque diamantini Me l'accollo Potremmo farci quasi Un picconci Ma quanto è enorme Chissà com'è ricevere Una frase del genere Comunque Ma è spaziale Tipo sentirsi dire Minchia ma è gigante Non ne avevo mai visto Uno così Ma assurdo Bello Bello Potrebbe dare un sacco Di soddisfazione Modo alternativo Oh mio dio Due però me ne dai Oddio 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 Di trebbia in mezzo alle mutande Assurda Sta parlando La lingua degli dei Mi dici muso Scava Continua Campione Come lo visti Brode ma tu non lo sai Che io prima Di fare Lo streamer Ero un Un faggiano Busso Che robino Ho trovato Una collina di fuoco E però Da qui stiamo un pochettino Non lo so Non capisco Che posto è Eh perché alcuni Non vogliono Eh vabbè Voglio trovare I malanzini Mi creo la mia strada No è morto Ho morto Peristrello Eh ma che devo fare No però non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Nulla Te lo dico Qua non Secondo me No 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 Siamo arrivati Siamo arrivati In un punto Di stallo Stallo inteso Come Diamantini Ne abbiamo trovati Quanto siamo A 5 Siamo a 10 10 diamanti 10 diamanti Vuol dire un bel piccone E basta Perché un po' Li teniamo di scorta Non siamo messi male Io direi Invece adesso Di fare una cosa Ma raga Ma sto alle 11 Ma che Ma voi non mi avete detto Porco Diamanti Che ragazzo Complicato Go 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 Eeeh Sentivo l'odore Ma in realtà Mi ero cagato addosso Ma ci siete Oh a merde Ma che fate Siete tutti a godervelo Beh in effetti Minecraft Poi se c'è un rincoglionito Come me che parla Ogni 3x2 Raccontando Cazzate inutili Totalmente useless Ci sta che voi Lo teniate in sottofondo Quindi Vi capisco Vi capisco Aspetta Mi deve uscire un peto fortissimo È uscito Perfetto Brotero ho finito Tutte le torce E non abbiamo carbone Grandissimo problema Enorme problema Voi vedete Car Aspetta Voi vedete carbone Mamma mia Perfetto Cos'è sta roba I cristalli Vedete oddio Non mi ricordo Cosa servono Ste robe Che servono Ste robe Regà Muso voglio Un'altra lezione Di video Oh ingravito Indovina un po' Non esiste solo quello Amore della mia vita 7 giorni alla settimana 5 ore Di live al giorno Non faccio solo quello Cucciolino Indovina un pochettino Pensate che roba strana Assurdo eh Scusa Joe Minchia 6 giorni Fanno veramente la differenza Joe Quando tu pensi A qualcosa Tipica Che direbbe una donna Ovvero delle precisazioni Inutili Non le dire Ma è un consiglio Questo vale per tutte le donne O comunque uomini Se voi siete i classi Tipi che fate delle precisazioni Inutili Però non le fate Me lo assicuro Non le fate Allora Io Io ti direi di fare una cosa Guardate un po' Io ti direi di fare Dietro di me è carbone Dietro di me è carbone Dove è dietro di me è carbone Scusa Non l'ho visto Questo è carbone Ah è carbone Anche quello lì Tutto scuro Ok Però faccio una cosa Faccio una cosa Chissà se ci fa dormire Però almeno sicuramente Ci farà Metterlo spawn No Non facciamo casa Però Siccome iniziamo ad avere Un pochettino di cosette Dormire non ci fa dormire Perché ci sono i mob Però mi sa che ci fa Metterlo spawn Facciamo Aspetta Prima questi Esatto Tre E questo Bam Ok E anche giorno fuori In realtà No no niente Non abbiamo più carbone Minchia l'abbiamo usato Tutto per le torce Che però ti dico Da un lato Vabbè Stiamo iniziando a finire il cibo In caso il legno brucia Sì però ne abbiamo Veramente poco Allora io direi che adesso Dovemo trovare Un pochettino di carbone Eh ma con tutto sto ferro Tipo Ma che ci faccio io Col ferro Allora prima di tutto Con i diamanti Cosa che ci occorre fare In assoluto con i diamanti Regà Il piccone Il piccone è la cosa principale Piccone in diamante Si fa per forza Per forza Nulla da dire In assoluto con i diamanti 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 In assoluto con i diamanti